E' avvenuto un omicidio a Reggio Calabria. Poco fa un'auto ha lasciato davanti all'ospedale Morelli, lungo il Viale Europa, nella zona sud della città, un individuo con ferite d'arma bianca evidenti. Non c'è stato nulla da fare per salvarlo. L'uomo era già morto. Una volta ricevuto l'allarme, sono giunti sul luogo del delitto gli agenti delle volanti, della squadra mobile e della scientifica.